ciao sono rossana giorgio luca matthew piacere alberto lorenzo piacere piacere arianna ciao giulia ciao sono davide ho preso un filo d'erba ed una birra e non sapevo cosa costruire gridai mcgyver mcgyver via medina e ne accambastador basta farla panoramica come si fa la panoramica si siamo conosciuti su un autobus sbronzi in realtà e dopo uno si è rivisti in altra serata al concerto 99 post e l'ho vista passare e ha detto la tipira sali ciao ma te sapi pira wild child c'è scritto vuol dire bambina pazza ecco bambina così perché un po l'anima da bambina io perché sono un po fuori di testa si dice il mio fidanzato si è fatto conquistare da solo cioè lui sono andata a prenderlo in stazione a napoli che l'avevo conosciuto su internet la mia ragazza guarda non si stufa mai dalla mattina la sera tutte le conosce incredibile crediligio qualche genere in particolare si le piace la telenovela stanni 70 tipo tipo topazio cantante vecchiotto famosissimo che ora i capelli grigi che tu anzi mi ha appena detto da mica tanto voglia come ha ridotto ancora no dica pure il prezzo di una mela per adamo beh madonna non lo sai quella e poi siamo chi siamo siamo arrivati qui dove eravamo abbiamo parcheggiato fuori mano 60 per cento dei cantanti e delle cantanti che senti oggi quando buttano fuori album in studio usano l'autotune che vuol dire che è un è un programma praticamente che ti bilancia la voce con le mani amore per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò com'è che si chiamava quella 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 tappa Arisa mamma mia se avessi una figlia come Arisa quante sberre in generale le persone che utilizzano bla bla car io le vedo diverse cioè hanno un approccio molto più aperto e disponibile io lo penso veramente che in queste situazioni vedi l'italia migliore ma vedi questa cio 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 mi ha scacciato il piede sta spagnola prendo la macchinina proprio per risparmiare gli 80 euro del treno e poi gli vado a dare per fare per fare 50 km gli vado a dare 10 euro no è la terza volta bene 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 molto bene sono scesa a luglio e ad agosto con bla bla car grazie 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 grazie